Io devo fare complimenti all'Associazione Cultura di Promozione Sociale Cesaproba 1996 che da sette anni ha inventato l'albero più grande EITEC d'Abruzzo. Quest'anno si tinge attraverso l'unione con Special Olympics di un valore sociale ulteriore che è quello chiamato dell'albero dell'inclusione. Attraverso l'accensione dell'albero non solo un momento di festa o di gioia ma accendiamo una luce su un mondo che molto spesso rimane al buio, quello delle disabilità, quello dove invece dovremmo avere un'attenzione particolare e quindi in questa collaborazione Special Olympics Regione Abruzzo e l'Associazione Cesaproba 1996 creiamo sotto legge della regione un modello positivo che può essere replicato. Abbiamo fatti molti eventi intorno all'albero. Cinque anni fa l'abbiamo acceso da Piazza Duomo all'Aquila con il Presidente della Repubblica e quest'anno ci sarà la novità in collaborazione con Special Olympics faremo l'accensione che partirà da sabato fino al 17 gennaio.